Guarda, complimentissimi. Ma lo dico proprio da docente, perché il passaggio di ciò che si sa ad un altro non è scontato, tu puoi essere bravissima ma non riuscire a far passare, non riuscire a capire i punti dove l'altro ha i vuoti. Lei è brava, logicamente anche tu, altrimenti non sceglieresti i tuoi collaboratori con queste caratteristiche. Grazie.